Arcimboldo enigma di ieri e di oggi, sono rare le esposizioni dedicate all'artista, evento d'eccezione la mostra romana Palazzo Barberini che per la prima volta unisce 20 suoi capolavori. Frutti, fiori, animali, elementi della vita comune sono il tratto destintivo dell'artista, esponente d'eccellenza del manierismo internazionale. Amato alla corte di Vianna e di Praga, Arcimboldo ottenne il titolo di conte palatino, fatto eccezionale per un artista. Tra le opere più significative della mostra, l'allegoria delle stagioni in dialogo con i quattro elementi, aria, acqua, fuoco e terra, esposta qui per la prima volta dopo 20 anni. Artista, filosofo, scienziato, invettore, precursore del tema della natura morta che diventerà tema simbolico nella pittura del Seicento. Arcimboldo sembra divertirsi, ma forse, dietro i suoi giochi, si nascondono livelli di lettura enigmatici e ambigui. Teste irreversibili che ruotate di 180 gradi diventano altro rispetto a ciò che l'occhio sembra aver visto in prima istanza. Teste composte, mostruose in lontananza, che si trasformano in bellezza quando ci si avvicina e si osservano nei dettagli. Sostituire i tratti del volto con oggetti era un arteficio letterario del Vecchio Testamento e della poesia antica, tecnica che divenne popolare nel Cinquecento. Arcimboldo si richiama a questa tecnica per mettere in dialogo il microcosmo con il macrocosmo.